Ciao a tutti e bentornati sul canale. Proseguiamo oggi questa sorta di carrellata di giovani calciatori che potrebbero e che secondo me si metteranno in vista e in luce nel prossimo europeo che appunto comincerà tra due giorni. Ovviamente spero intanto che i video precedenti che ho realizzato su Teon Cup Miners e su Adam Hologek dei quali vi lascio sia il link qui sotto nell'info box che su nelle schede. Spero appunto che vi siano piaciuti e che magari vi siano stati utili anche per capire un po' meglio al di là del discorso di mercato, farvi un po' capire meglio chi siano questi calciatori perché molte volte sui siti vediamo magari questo nome, quell'altro nome, delle dicerie, delle cose scritte, però anche i giornali molte volte non conoscono i calciatori, a me più volte mi sono arrivate richieste in passato di parlare di calciatori sotto forma di intervista o anche di relazione tecnica che magari ecco gli stessi giornalisti non conoscevano e magari scrivano a volte anche cose abbastanza errate. Guardando tutte le rose del campionato europeo devo dire che ci sono tanti difensori centrali giovani e molti interessanti. Oggi appunto ve ne voglio parlare di uno prima comunque di iniziare vi invito come sempre, se appunto vi sono piaciuti anche i video passati di iscrivervi al canale, di mettere mi piace a questo video e ai vecchi video e ovviamente di attivare la campanellina perché a voi non costa niente, però per me è una cosa molto importante anche perché è uno stimolo in più e una prova che voi mi date che il contenuto che porto, soprattutto riguardo i giovani calciatori, insomma, vi è di gradimento. Dicevamo, parliamo di un difensore centrale di nazionità svizzera, ovviamente di seconda generazione perché il cognome tutto è forché svizzero e anche il nome ovviamente. Stiamo parlando di Becir Omeragic classe 2002 difensore centrale dello Zurigo che nella scorsa stagione ha collezionato 29 partite 0 gol 0 assist e soltanto un cartino giallo. Già però 56 partite ufficiali giocati con la prima squadra. dall'ottobre 2020 membro fisso della prima squadra, diciamo, della nazionale A della Svizzera quindi quando era appena 18enne. Un giocatore molto interessante, alto 187 centimetri quindi se avete visto il video dove ho parlato appunto di Coop Miners, diciamo un difensore che è un misto tra la nuova concezione e la vecchia concezione, sempre riguardo il discorso dell'altezza perché appunto dicevo che fine anni 90, inizio anni 2000 soprattutto andavano di moda i difensori anzi andavano di moda i difensori un po' più bassini che però magari avevano un grande stacco di testa ripeto Cannavaro, ripeto Cordoba. Poi verso la fine della prima decada degli anni 2000 questa usanza di avere anche un difensore piccolino si è tramutata nelle esigenze di avere due pennelloni che magari con i piedi erano scarpari, avevano ferri da stiro degni di fantozzi e filini però magari erano alti e arrivavano sui palloni, poi erano pachidermici nei movimenti ma comunque torniamo a Meragic, 187 cm, un difensore che da un certo punto di vista assomiglia anche molto a De Ligt nel senso che comunque è bravo con i piedi ma che comunque a differenza dell'olandese ha giocato alcune partite da difensore di destra, da terzino destro in quanto ha una muscolatura, diciamo una struttura fisica molto diversa da Matheis De Ligt è molto più piazzato, molto più pesante, molto più da centrocampista centrale, da mediano mentre a Meragic ha queste leve lunghe che comunque gli consentono anche di avere una maggior fluidità a livello di corsa ma comunque di non avere neanche quel senso di pesantezza non è difficile vederlo soprattutto svariare sulla destra e magari effettuare qualche dribbling vuoi anche l'incoscienza dell'età, ormai tentare il numero, tentare il tunnel insomma un difensore molto interessante dai margini di sviluppo clamorosi poche volte ha giocato una difesa 3 e quando ha giocato una difesa 3 ha giocato come libero quindi diciamo come difensore centrale per un difensivo, argista difensivo alletrato appunto sfruttando anche le sue grandi doti di calcio perché comunque da questo punto di vista un difensore molto moderno ama aprire il gioco, ama iniziare l'azione palla al piede molto intelligente nei tempi di intervento difensivi e soprattutto nel posizionamento 187 cm sa far valere il fisico ma grazie al posizionamento difficilmente si fa prendere diciamo in castagna quindi non è un gran che falloso soprattutto sui lanci lunghi a palla scoperta è molto veloce nell'arretrare e nel recuperare campo se si trova distante dall'avversario magari lui è un po' più verso la porta l'avversario lì a 30 metri è molto veloce nel recupero palla molto veloce nel raggiungere la palla prima dell'avversario è sicuramente un difensore che in primis può riempirsi anche un po' più fisicamente quindi può mettere anche un po' più di massa però onestamente eviterei questa cosa perché poi rischia di incappare nell'effetto Bernardeschi quindi metti su massa e poi non riesci più a correre neanche se vi è una pantera affamata che ti corre dietro per quanto riguarda l'Italia questo difensore è stato accostato alla Roma oltre che all'Union Berlin in Germania nella Roma di Mourinho lo vedrei molto bene in primis perché Mourinho pone molta attenzione sul reparto difensivo sui movimenti difensivi e omeragici veramente potrebbe crescere tanto, tanto, tanto o magari anche mi incuriosirebbe anche vederlo sull'altra sponda di Roma quindi a Lazio perché ha alcune caratteristiche di Manolas un giocatore che s'ha riavuto se non erro o non mi ricordo comunque un difensore che comunque anche se si gioca alto ha quella fluidità di corsa e quella velocità sul lungo che gli permette di recuperare campo di recuperare un eventuale svantaggio ottimo nelle scivolate tempi di intervento ottimo e ripeto soprattutto in area non avere un difensore poco falloso ecco diciamo che la difesa si pone sempre con un alto piglio vale a dire molto più sicura comunque anche ripeto su spondo naziale mi incuriosirebbe molto secondo me si amalgamerebbe molto bene con la Cerbi anche perché poi teniamo conto che sia Roma che Lazio devono effettuare un restyling in difesa comunque a Roma ha un Juan Gesus che è andato via ha un Fazio che ormai ragazzi è un sarcofago quindi potrebbe essere un investimento molto culato anche per la Lazio potrebbe essere ottimo anche perché non ha tanti difensori forti anche Vavro è stato messo fuori squadra insomma per un restyling in difensivo soprattutto per queste due squadre potrebbe essere ottimo io anche la Juventus lo vedrei anche bene soprattutto perché Transfermart porta come vuole di mercato 5 milioni e soprattutto se si prende un giocatore dal Campeonato Svizzero che comunque ha molte qualità non è che si ecceda molto nel costo io penso che sugli 8-9 milioni massimo 10 milioni lo prendi però è un giocatore un 2002 un gennaio 2002 quindi che ha appena fatto i 19 anni che ha tanti margini di miglioramento mostra anche molte indecidenze sul campo e allo stesso tempo ha anche tanta esperienza in prima squadra comunque anche una buona esperienza internazionale per l'età che ha quindi un investimentino lo farei soprattutto in un'epoca appunto di Covid che non c'è tutta questa disponibilità economica avessi un 10-12 milioni di euro disponibili investibili per un difensore centrale assolutamente investirei su Becir o Meragic ovviamente spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile appunto per avere una visione un po' più di insieme di questo giocatore in tal caso vi invito a iscrivervi al canale sempre di lasciare un like attivare la campbellina e di condividere con gli amici se sono appassionati diciamo di questi temi ricordo che mi piace a voi non costa nulla però per me è veramente tanta 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 benzina vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao